Buongiorno a tutti, sono Sandro Paganotti. Oggi proseguiamo dalla lezione precedente, dove avevamo costruito una direttiva che però non rispondeva all'aggiornamento del dato contenuto nel suo attributo. Quello che vedremo oggi è come fare in modo che questa direttiva, che recupera l'elenco dei video di YouTube dato a una query, aggiorni questo elenco anche all'aggiornamento dinamico del valore dell'attributo. L'effetto che vogliamo costruire è questo qui. Nel momento in cui io inserisco una query, quello che succede è che il risultato che compare all'interno dell'elenco dei video risponde alla modifica di quello che succede all'interno dell'area di testo. Per fare questo dobbiamo lavorare sulla direttiva che abbiamo costruito nella lezione precedente, che adesso vedremo, rendendola un pochino più reattiva a questo genere di cambiamenti. Se ci spostiamo sul codice, quello che notiamo è che la nostra direttiva, così come costruita nella lezione precedente, funziona solo al primo round. Nel momento in cui io aggiorno la pagina, effettivamente la ricerca viene fatta correttamente sulla base della query, ma nel momento in cui poi mi trovo a dover aggiornare per mille motivi quel parametro, l'elenco dei video in pagina resta esattamente il precedente. Possiamo intervenire in questo senso? Assolutamente sì. Dobbiamo fare due passaggi importanti. Il primo è fare in modo che l'attributo query della nostra direttiva in realtà non dipenda da una stringa, ma dipenda da una variabile. E in secondo luogo dobbiamo fare in modo che la direttiva si metta in ascolto su eventuali modifiche di questa variabile e agisca di conseguenza. Per fare implementare la prima parte di questo requirement, tutto quello che dobbiamo fare è modificare leggermente il modo in cui abbiamo spiegato ad Angular che funziona la nostra direttiva e dobbiamo andare a dire che l'attributo query in realtà non deve essere interpretato come valore testuale, quindi togliamo la chiocciola, ma deve essere interpretato come il nome di una variabile. Per cui con questa modifica quello che succede è che aggiornando la pagina in realtà il risultato sarà assolutamente inatteso, perché? Perché in realtà ora non è più la stringa Australia oggetto della ricerca, ma in questo momento oggetto della ricerca è il valore contenuto nella variabile Australia, la variabile Australia che non è definita da nessuna parte e quindi se notate i risultati dei video contengono appunto la parola undefined, che è la valorizzazione di una variabile non definita in JavaScript. Quindi per fare questo, per poter in qualche modo gestire questo problema, dobbiamo fare in modo che questa variabile sia valorizzata all'interno della nostra applicazione, perché questa variabile diventa appunto il contenitore della stringa di ricerca, per cui prima di tutto non chiamiamola Australia, diamogli un nome più interessante come ad esempio query string, e dopodiché prepariamo in pagina un campo di testo, in cui spieghiamo ad Angular che questo campo di testo è legato al popolamento della variabile che ci interessa. Quindi quello che succede è che in questo momento il comportamento è ancora assolutamente scorretto, ma in pagina abbiamo un campo di testo e sappiamo che popolando questo campo di testo, grazie alla proprietà di livebinding di Angular, mentre popoliamo questo campo di testo, la variabile query string di conseguenza si valorizza secondo il testo che stiamo scrivendo. Questo è anche un secondo vantaggio, essendo la variabile di query string legata a doppia mandata con l'attributo query, lo stesso attributo query si aggiornerà di conseguenza man mano che l'utente digita qualcosa nel nostro campo di ricerca. L'intervento non è comunque sufficiente perché dobbiamo fare in modo che la parte che in questo momento è nella funzione link possa in qualche modo reagire a questo tipo di modifica, quindi ad oggi sappiamo che effettivamente dovessimo ispezionare la variabile query questa effettivamente cambia, ma non c'è niente all'interno della direttiva che chieda ad Angular di rivalutare un'espressione alla modifica di questa variabile. Fortunatamente però esiste uno strumento molto comodo per fare questo tipo di intervento ed è il watch. Noi possiamo andare a dichiarare un'espressione di watch all'interno di una delle qualsiasi delle variabili all'interno di uno scopo, per cui ne possiamo andare a chiedere ad Angular di avere un watch all'interno dello scopo della direttiva e sulla variabile in questo momento ci interessa, che è la variabile query. Il watch accetta una funzione come secondo parametro, questa funzione oltre ad avere un argomento che possiamo scegliere se utilizzare o meno che è il nuovo valore a cui è stata valorizzata l'espressione su cui abbiamo chiesto il watch e contiene quello che deve essere eseguito quando l'angular identifica una variazione all'interno della variabile che abbiamo messo sotto osservazione. In questo caso tutto quello che vogliamo che venga eseguito è esattamente la nostra funzione di link, perché possiamo copiare la parte scritta nel video precedente e incollarla all'interno del watch. Bene, in questo caso vediamo insieme, abbiamo indicato una funzione, un watch sull'attributo query, questo watch esegue una funzione, la funzione contiene l'argomento value che è la valorizzazione corrente dell'attributo che quindi possiamo andare a utilizzare al posto dell'attributo in sé stesso e in caso di success della richiesta HTTP andiamo a popolare lo scope dei videos come abbiamo fatto nella versione precedente con i video provenienti da YouTube. La bellezza di questa implementazione è che una volta aggiornato lo scope, Angular by design si preoccupa di mantenere la corrispondenza tra il valore dello scope e il valore che c'è nel template, per cui una cosa di cui non ci dobbiamo preoccupare con AngularJS è quello di FRC, poi ad esempio di che il template si aggiorni in pagina sulla base del nuovo scope. Nel momento stesso in cui noi valorizziamo lo scope con dei dati nuovi, automaticamente questi dati poi si ripercuotono sul template in pagina e la pagina quindi viene aggiornata automaticamente, questa è una grande feature di questo framework. Ultimo accorgimento, all'interno della funzione evitiamo di eseguire la parte di aggiornamento se il campo è vuoto, quindi possiamo fare un semplicissimo se non esiste nessuna value, return. Ok, quindi andiamo a chiedere ad Angular, al nostro script, al nostro direttiva di non aggiornare l'elenco se non ci sono valorizzazioni in questo momento. eseguendo quanto appena sviluppato, notiamo che in questo caso il campo di ricerca è l'unica cosa che compare in pagina perché non abbiamo ancora inserito nessuna stringa ma nell'inserire una stringa la direttiva risponde correttamente eseguendo la ricerca presso YouTube e aggiornando i risultati in pagina. Bene, con questo abbiamo finito e implementato correttamente il comportamento atteso. Alla prossima!